Salve! Questo percorso formativo è stato progettato, creato, e sarà gestito da Anitel, Associazione Nazionale Insegnanti Viewtory Learning. Enti accreditato dal NIR per la formazione. La nostra storia, inizia con il primo corso online in Italia, dedicato al mondo scolastico, organizzato da Rai Educational nel 1999, a cui parteciparono 200.000 insegnanti. In questo percorso formativo, denominato Multimedia Scuola, condotto da Carlo Massarini e diretto dal professore Gino Roncaglia, Anitel, ha contribuito mettendo a disposizione le guide e i tutorial. Successivamente, nacquero i corsi Ansass in dire. All'interno dei forum, prima vera occasione di un confronto nazionale, è nata la nostra community. Tutti i docenti tutor, con il compito di facilitare e guidare la formazione dei colleghi. La nostra community, si è sempre caratterizzata, per una costante e innovativa ricerca nell'ambito metodologico-didattico-pedagogico applicato alla prassi quotidiana in classe. I nostri progetti formativi, nascono dall'esperienza sul campo dei soci, condivise in rete, appassionati da anni a riorganizzare la didattica, tramite l'elaborazione di strategie protesi a migliorare l'apprendimento. Lungo il tragitto, ti accompagnerà un esperto team di docenti, con la funzione di facilitare il tuo percorso, di consigliarti nelle scelte strategiche, di risolvere eventuali problemi tecnici. Laura Antichi. Professoressa di filosofia, esperta di nuove metodologie e di didattica digitale. Gioachino Colombrita. Docente di diritto, esperto realizzatore di ambienti di apprendimento immersivo. Valeria Zangari. Docente progettista di Learning Object per la didattica. Valerio Pedrelli. Autore di software e di applicazioni didattiche, nonché presidente Amitel. Dalla didattica a distanza, alla didattica digitale integrata. Il corso esamina, alla luce delle linee guida per la didattica digitale integrata, e rispettivi riferimenti normativi, le nuove modalità per accompagnare l'attività didattica, anche fuori dall'aula scolastica. Dall'insegnamento rimoto d'emergenza, all'insegnamento rimoto programmato, come integrazione alla didattica e in presenza. Didattica mista. Equilibrato bilanciamento tra, attività sincrone, e asincrone. La scuola digitale, non ha un'altra scuola. È, più concretamente, la sfida dell'innovazione della scuola. Dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Il corso è indicato anche per la preparazione al concorso per docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Verranno trattati i possibili metodi didattici da adottare, gli ambienti di appendimento conformi e liberamente utilizzabili, gli strumenti per Comunicare, creare e gestire la lezione, approfondire, condividere materiali e risorse, potenziare esercizi e training, assegnare compiti e valutare, creare un archivio e il repository del materiale e delle esperienze. Il programma in sintesi Usare l'apprendimento ibrido Contesti e idee pedagogiche Lanciare nella resilienza la sfida progettuale Progettazione didattica Creare residenze di appartenenza ai campus Le piattaforme Praticare lo spazio conversazionale Le web conferencing Dare rappresentazione e voce alle finestre Mappe, audio e podcast Produrre interattività e visione I video Generare strumenti di orientamento, e di aspettativa attiva Dai compiti, agli strumenti di valutazione Giocare, ideare per valutare Fast card e videogiochi, come laboratori per sostegno e verifica dell'apprendimento Il periodo ufficiale del corso, è in via di definizione, con probabile inizio in settembre, e conclusione a fine dicembre Con la possibilità di completare il corso, entro maggio 2021 Il corso è suddiviso in, otto moduli tematici Non è indispensabile terminare un modulo prima dell'apertura del successivo, in quanto è possibile procedere in modalità personalizzata, e di tempi a disposizione Ogni modulo è introdotto da una web lesson in diretta, di circa 120 minuti, con funzione introduttiva agli argomenti trattati Queste istanze possono essere esplicate anche dai forum tutoring e counseling presenti in ogni modulo Non è indispensabile terminare un modulo prima dell'apertura del successivo, in quanto è possibile procedere in modalità personalizzata, e di tempi a disposizione I processi predisposti, partono dalle attività di studio, e ricerca individuale, o a gruppi tematici Il percorso è agevolato dai docenti, e dagli esperti, con funzione di tutoring, e counseling Il confronto, sarà effulcro delle precedenti azioni, prima di passare ad un progetto realizzativo nel contesto degli apprendimenti, individuali e di gruppo La condivisione degli elaborati realizzati, arricchirà l'esperienza, mirata a una ricaduta diretta, nella prassi didattica quotidiana Il processo di valutazione, o autovalutazione, avrà l'obiettivo di individuare eventuali approfondimenti da compiere Il percorso formativo si sviluppa in una parte fissa Info tool Contenente i servizi, ed ha otto moduli tematici Ogni modulo, è organizzato in web lesson, sincrone o asincrone, con materiali di studio, e attività di lavoro Al termine del percorso è prevista una rilavorazione riflessiva sugli apprendimenti, con verifica e valutazione In caso di assenza, o qualora si verificassero problemi di collegamento per le caratteristiche della connessione in loco Gli incontri in diretta verranno registrati, con la possibilità di connettersi in modalità individuale agli arricomenti trattati In caso di difficoltà a audio, è consigliato uscire, e rientrare nell'ambiente Web Lab Incontri facoltativi, con lo scopo di approfondire e progettare nel contesto di uno specifico modulo Per maggiori dettagli, consultare il calendario alla guida Cosa dovrai fare, in ogni modulo? Nel cassetto delle azioni, è disponibile un forum opzionale per il supporto Nel forum di confronto, prescrittivo, dovrai confrontarti, e condividere i tuoi progetti Al termine, la verifica del modulo attribuisce 100 crediti Il corso prevede un totale di 800 crediti L'attestato si attiva al raggiungimento del 60% di essi, cioè a 480 crediti Per l'utilizzo dettagliato di questi ambienti consulta la guida generale posta nella pagina illustrativa e all'interno del corso stesso Alcuni requisiti per partecipare ai webinar Meglio indossare cuffie a microfono, nel caso si dovesse intervenire in diretta Ricordarsi di accendere il microfono prima di intervenire e di spegnerlo alla fine dell'intervento Device possibili Da preferire la postazione fisse o il notebook Possibili anche il tablet, e i cellulari, purché dotati di schermo uguale o superiore ai 10 pollici Connessione Uguale o superiore ai 20 megabit per secondo, per reti fisse Ideale dai 60 in su 4G per reti mobili Le principali problematiche legate alle videoconferenze asincrone possono essere Difficoltà di connessione Sintomi Si cade spesso o si vede e si sente attratti Cause Rite di servizio obsoleta, non aggiornate Rimedi Cambiare gestore dei servizi Ma non sempre è possibile ottenere velocità adeguate in certe zone d'Italia Device utilizzati obsoleti In seconda posizione Sintomi Grafica scadente Difficoltà ad aprire ambienti sincroni 2D o 3D Cause Arbre firmware incompatibili con programmi o ambienti di ultima generazione Rimedi Acquistare un nuovo device di ultima generazione Difficoltà audio o grafiche Sintomi Nessun output audio, oppure di bassa qualità Grafica scadente Cause Scheda audio o scheda video non aggiornata Rimedi Regolare Regolare Settare la scheda audio o video O sostituirle Come primo tentativo Uscire e rientrare nell'ambiente Al primo ingresso Ti verrà chiesto di installare L'applicazione Appropriata Device utilizzato PC fisso 4 Android 5 iOS 6 iPad iPhone Smartphone Per un'ottimale leggibilità dei documenti trasmessi, è consigliabile una postazione fissa In questo caso è possibile aprire il webinar con Chrome, evitando l'installazione dell'app Per una partecipazione funzionale alla diretta webinar, si consiglia una connessione minima, di 20 Mbps, nelle reti fisse 4 Giga, nelle connessioni mobili, tipo iPhone, e smartphone Per l'utilizzo dell'ambiente Animating, si consiglia di consultare la guida generale La tabella di valutazione dei crediti, è presente in Info e Tool, la parte fissa di ogni modulo Per l'utilizzo dell'applicazione